Ben trovati un aggiornamento con Trevi Meteo, diamo insieme uno sguardo alla previsione per la seconda parte di settimana perché mentre l'alta pressione interessa buona parte del centro nord con clima estivo, un insidioso vortice di bassa pressione in queste ore si sta formando sul mar Tirreno. Quindi massima attenzione in particolar modo alle regioni affacciate a questo mare, parliamo di Sardegna specie alla parte orientale, gran parte di Sicilia, Calabria, Campania e Basso Lazio perché si formeranno dei temporali a tratti anche di forte intensità, soprattutto occhi puntati alla Sardegna orientale. Qualche scroscio di pioggia atteso nel corso di giovedì anche tra Abruzzo, Molise e Dorsale Appenninica. Per quanto riguarda invece rimanenti zone del centro nord, bel tempo prevalente, sole che non manca e temperature molto molto miti. Guardate al nord Italia si va oltre i 28 gradi, punte anche di 30 sull'Emilia ma così come anche sulla Toscana. Insomma non c'è aria fresca, aria fresca che probabilmente arriverà durante la prossima settimana. Alta pressione che si sbilancia più verso nord ovest e favorirà la discesa di questa massa d'aria più fredda dalla Scandinavia verso i Balcani ma lambirà parzialmente anche la nostra penisola, in particolar modo il lato adriatico con un calo delle temperature. Quindi finalmente diciamo si tornerà su valori più consoni al periodo. Dettagli maggiori come sempre sull'app gratuita di Trebi Meteo.